L'urna con le spoglie mortali di Papa San Pio X giungeranno nella notte tra domenica e lunedì dalla città natale Riese Pio X per raggiungere il centro della Basilica Cattedrale di Padova dove potranno essere venerate. Lunedì e martedì prossimi la chiesa di Padova ospiterà le reliquie del Papa che tornano in Veneto per la prima volta in una peregrinazio che sta toccando le diocesi che hanno segnato la sua vita e il suo ministero, prima Treviso e dopo Padova Venezia. A Padova Giuseppe Melchiorre Sarto, figlio di una famiglia di umilissime origini, visse durante gli anni della sua formazione nel seminario vescovile. Il contributo che abbiamo potuto dare, anche se allora non sapevamo per che cosa serviva, era proprio quello di contribuire alla sua formazione culturale, intellettuale, teologica, spirituale e pastorale, nel senso che è cresciuto qui e qui a Padova ha potuto condividere sensibilità e attenzioni che poi penso abbiano arricchito Papa Pio X per tutta la sua vita. Numerosi gli oggetti appartenuti al giovane Pio X conservati nella biblioteca del seminario dalle sue pagelle al breviario personale che usò negli ultimi anni della vita alle lettere conservate nel fondo Pio X. Per i devoti che vorranno recarsi in Duomo sarà allestito un percorso che partirà dall'altare dedicato a San Pio X per giungere al centro della basilica dove sarà collocata l'urna. 120 anni fa l'elezione al soglio pontificio di Giuseppe Melchiorre Sarto, un Papa popolare che amava il popolo di Dio e che incise profondamente nella vita interna della Chiesa. Lunedì e martedì mattina alle 7.30 la Santa Messa è seguita dalle Lodi. Lunedì sera alle 19 l'Eucaristia sarà celebrata dal Vescovo Claudio Cipolla. Martedì alle 18 i Vespri, che concluderanno la Peregrinazio durante i quali salirà un'accorata preghiera per la pace in Terra Santa.